L'esperienza dell'Eurovision è un'esperienza fantastica. Noi eravamo capitanati da Giancarlo Genise, che è uno dei vocal coach tra i più importanti in Italia. Io insieme a Elita Cistola eravamo del far parte dei membri del Team Hoop e abbiamo vissuto un po' insieme agli artisti quello che erano le emozioni, le tensioni, le paure anche, no? E le ansie anche di salire prima sul palco, quindi il fatto che ci chiamassero anche cinque minuti prima per il riscaldamento, per il raffreddamento, è un'emozione davvero grande e immensa. È una macchina enorme l'Eurovision, penso che forse non ci sia nulla in Italia di così grosso. Come sei arrivato da Palermo all'Eurovision? Allora, sono arrivato attraverso il progetto Hoop, quindi con Giancarlo Genise. Io sono uno degli insegnanti per Palermo, sono il vocal coach del progetto, che è un progetto di formazione discografica a 360 gradi, che dà la possibilità a chi vuole, a livello artistico, entrare in questo mondo, avere tutti i mezzi, quindi dalla tecnica vocale, alla teoria solfeggio, alla dizione, all'aspetto discografico e quindi alla creazione poi di un EP, quello che è entrare nel mondo musicale di oggi. Un piccolo consiglio per chi ci sta guardando per allenare la voce? Allora, il consiglio che do è sicuramente intanto svegliarsi presto, quindi fare una routine già dal primo mattino, iniziare a fare dei riscaldamenti vocali, è sicuramente sotto l'aiuto e il supporto di un insegnante di canto, e non abbattersi mai nelle difficoltà che si possono affrontare in questo mestiere.